Ciao a tutti e benvenuti all'autodormo di Franciacorta. Oggi avremo con noi un ospite veramente speciale alla quale vogliamo chiedere un'opinione sul nostro nuovo prodotto Arbre Magique che presentiamo oggi, andiamo! Mi piacciono i profumi e mi piacciono anche le auto, connubio perfetto per essere stata scelta come blogger da Arbre Magique. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Chi pensi possa essere l'automobilista interessata a questo genere di profumi? Sicuramente un'automobilista discreto, sobrio, minimal. Mio marito che è minimal chic lo sceglierebbe subito. Ecco, avrei proprio piacere di chiedere un parere a te che sei esperta di fashion. C'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare? La rotondità, questa forma a radiatore circolare che permette pertanto la reazione e permette quindi la diffusione del profumo e poi anche la cromatura e poi per ultimo ma molto caratteristica la forma dell'onda che simula il liquido del profumo. Il design è un'evoluzione dell'alberello con questa forma molto contemporanea e moderna però rimane l'alberello al centro che abbiamo potuto notare fuori che quando si illumina si fa vedere però rimane il mood popolare, ironico e caratteristico di Arbore Magique. Grazie bene.